Sonia Bruganelli. Tutta la verità sulla vita privata. Ecco un gossip vero. Opinionista del grande fratello VIP lancia una frecciata velenosa. Mio marito? Gossip vero. L'eco della presunta crisi tra Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli non smette di farsi sentire. Dopo la smentita della diretta interessata. Prima sui social, e poi a Verissimo da Silvia Toffanin. La spalla di Alfonso Signorini su Canale 5 ha deciso di tornare sulla vicenda. Questa volta però prendendosi gioco di chi ha messo in giro le voci sulla fine del suo matrimonio e di chi ha creduto al gossip. Su Instagram la protagonista delle prime serate invernali di Canale 5, ha infatti postato la foto in compagnia di una delle sue amiche del cuore, visibile in basso, e ha commentato Mio marito. Gossip vero? Insomma, ha deciso di scherzarci sull'opinionista che ha raccontato ieri, nel rotocalco di Canale 5 di essere rimasta stupida dalla pre... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! In questo periodo inoltre la coppia sta lavorando spalla a spalla anche per la nuova edizione di Ciao Darwin. Segno che il loro legame è forte e stabile. Su Instagram, ha infatti commentato. Viviamo nel presente! Certo è che la notizia lanciata in questi giorni non è passata inosservata e ha portato i due personaggi televisivi a dover reagire. E la reazione è stata proprio la battuta ironica e la foto in compagnia dell'amica del cuore, visibile in basso. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!